Si va verso la sentenza per Alex Danutti, il quarantenne romeno che la sera del 31 gennaio scorso alla guida della sua minicar travolse ed uccise la piccola Letizia di soli 10 anni e la mamma Magena mentre camminavano sul marciapiede a San Leo. L'uomo, come evidenziarono le analisi effettuate subito dopo il tragico incidente, era al volante issato di ebrezza. Il quarantenne che fu arrestato la stessa sera del dramma si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano e martedì 12 luglio si troverà di fronte al giudice per le udienze preliminari, Pier Giorgio Ponticelli. L'accusa, formulata dal PM Elisabetta Iannelli, è omicidio plurimo aggravato dallo stato di ebrezza. Danut, difeso dall'avvocato Carmen Capocchia, che ha sostituito il collega Andrea Sandroni, rischia fino ad un massimo di 12 anni. Non potrà essere accusato di omicidio stradale plurimo perché la legge sull'omicidio stradale è entrata in vigore successivamente al tragico episodio di San Leo. Il quarantenne chiederà un rito alternativo o abbreviato il patteggiamento per ottenere così lo sconto della pena. Luca Fiacchini, padre della piccola Letizia e marito di Magena, si costituirà parte civile rappresentato in aula dall'avvocato Raffaello Giorgetti. Il legale della famiglia Fiacchini, inoltre, chiamerà in causa la compagnia assicurativa che copriva all'epoca dell'incidente la microcar.